Stefano Miglietti, sta per partire questa avventura di 10 maratoni consecutive. Un tuo commento, che cos'è esattamente questa avventura? E' un po' una sfida, una sfida non estrema come ambiente, come quelle che sono abituato a fare tra i ghiacci o i deserti, ma sempre una sfida ed estrema dal punto di vista fisico. Sono 10 maratoni consecutive, quindi quasi 422 km, tra l'altro tutti su asfalto, sicuramente una distanza che massacra le articolazioni. E' una sfida con me stesso, è una prova per vedere il tempo e se riesco ad eguagliare o avvicinarmi al tempo di questo record mondiale di 72 ore. Sicuramente si svolge lungo un percorso bello, perché tra frutteti e vigneti qui nella valle dell'Adige. Spero di non avere problemi fisici e di rifiutare tutto me stesso, come ho sempre fatto fino a oggi.